Questo tutorial riguarda il secondo e più importante metodo di sviluppo disponibile in Vitamin BV, Triple Tone. In confronto a Single Tone è più avido di risorse per il vostro computer, ma rimane molto facile da utilizzare ed è assai potente. In sostanza, produce un'immagine basata su tre diverse versioni Single Tone. La prima considerazione è che non avete bisogno di preoccuparvi dei filtri colorati. Con Triple Tone, qualsiasi scelta facciate non ha alcun effetto. L'immagine risultante conterrà sempre tre versioni basate su None, ovvero nessun filtro, Blue e Orange. Queste impostazioni non sono modificabili, quindi potete semplicemente lasciare None come scelta. Potete però scegliere se utilizzare una conversione Default o Boost e un viraggio, se lo desiderate. Per questa immagine utilizzerò Default e Warm rispettivamente. Clicchiamo su Triple Tone e vediamo cosa succede. Il pannello Livelli sembra molto complicato, ma in realtà non lo è. Contiene tre diversi gruppi identificati dal colore del filtro che rappresentano. Dal basso, Nessun filtro, Blu e Arancione. Ciascun gruppo è esattamente come quello che abbiamo visto nel tutorial su Singletone. Dal momento che abbiamo scelto un viraggio, ci sono tre livelli per ciascuna versione. Inoltre, questo è il massimo numero di livelli che Vitamin BV può creare. Per ora, ignoriamo la struttura a livelli interna a ciascun gruppo e consideriamo le versioni come oggetti a sé stanti. Per impostazione predefinita, i gruppi Blu e Arancione sono invisibili e quello che compare è il risultato del gruppo realizzato senza filtro. Rendendo i gruppi visibili si vedranno le versioni che contengono. Ciascun gruppo è impostato al 100% di opacità, quindi, attivandolo, si vedrà una sola versione per volta. I due gruppi superiori sono dotati di una maschera di livello che controlla la loro trasparenza. La croce rossa indica che la maschera è disattivata, quindi non influenza la visibilità del livello. Dal momento che la maschera è nera, la sua attivazione rende trasparente il gruppo. Lo ricordiamo, nelle maschere il nero nasconde e il bianco rivela. Il flusso di lavoro suggerito per creare l'immagine finale comprende due passi. Primo, esaminare ciascuna versione separatamente per decidere quali siano le parti migliori da mantenere. Potete naturalmente decidere di utilizzare una versione sola, diffonderne due oppure tutte e tre. Secondo, utilizzare l'opacità dei gruppi e le maschere di livello per realizzare la versione finale. Applichiamo il flusso di lavoro a questa specifica immagine. Primo passo, partiamo dall'immagine non filtrata in basso e la confrontiamo con la versione blu. Questa presenta un contrasto migliore nell'acqua e soprattutto una definizione fantastica nel fogliame. Queste aree sono candidate a derivare da questa versione, a meno che la versione arancione non abbia di meglio da offrire. Verifichiamo. Attiviamo la versione arancione. La blu vince nell'acqua e nel fogliame, ma l'arancione è migliore nel cielo e nel canneto. È migliore anche dell'immagine non filtrata? Verifichiamo. Nascondiamo la versione blu e confrontiamo quella arancione con quella di base. Quella arancione è leggermente migliore. Decisione finale. Iniziamo con l'immagine non filtrata, aggiungiamo il fogliame e l'acqua dal gruppo blu e il cielo e il canneto da quello arancione. Questa è la fine del primo passo. Secondo passo. Iniziamo dalla versione non filtrata e attiviamo il gruppo blu. Vogliamo aggiungere il fogliame e l'acqua, quindi attiviamo la maschera con il consueto Shift-click. La maschera è nera e rende il gruppo trasparente. Selezioniamo un pennello ampio e morbido e il bianco come colore di primo piano e iniziamo a dipingere sulla maschera. L'acqua. Zoomiamo un pochino. E il fogliame. Ora passiamo al gruppo arancione. Lo rendiamo visibile e attiviamo la maschera in modo da renderlo trasparente. Vogliamo aggiungere il cielo e il canneto, quindi di nuovo dipingiamo su di essa con il bianco. Come notate questa pittura è molto veloce. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Questa è la versione non filtrata. Questo è il contributo della versione blu nell'acqua e nel fogliame. E infine il cielo e il canneto dalla versione arancione. Abbiamo finito. In realtà non abbiamo ancora sfruttato tutta la flessibilità di Triple Tone. Abbiamo ignorato la struttura dei livelli di ciascun gruppo. Abbiamo ancora la possibilità, se lo desideriamo, di modificare il contenuto di ciascun gruppo esattamente come abbiamo fatto nel tutorial su Single Tone. Il risultato finale è sia migliorativo che interpretativo. Vorremmo mostrarvi quanto è versatile il processo proprio nel campo dell'interpretazione. Ho preparato in precedenza una versione di questa immagine di Beauty in modo da poter facilmente mostrare il risultato. Questa è la versione non filtrata, questa è la versione blu e questa è quella arancione. Trovo che il carattere esotico della versione blu sia sorprendente, ma magari utilizzarla al 100% è eccessivo. Gli occhi e parte della pelle sono invece molto buoni nella versione arancione. La mia strategia è stata quella di fondere la versione blu con l'originale al 50% dipingendo in nero sulla maschera di livello per mantenere le labbra dalla versione non filtrata, perché altrimenti sarebbero apparse troppo scure. Ho poi messo in evidenza gli occhi dalla versione arancione e utilizzato un riempimento di grigio al 50% sulla fronte per darle più luminosità. Tutto il gruppo è stato poi impostato al 60% di opacità. La fusione di versioni così diverse, tutte molto buone se prese singolarmente, può letteralmente cambiare faccia all'immagine. Questa è l'ultima immagine di questo tutorial e anche la più colorata che abbiamo visto fin qui. Il processo Triple Tone Standard genera tre versioni. Questa è quella non filtrata, questa è la blu e questa è l'arancione. Tutte e tre hanno dei punti di forza e di debolezza. Dopo una breve ispezione, ho deciso di utilizzare la versione blu in metodo di fusione scurisci. Contribuisce con un sorprendente dettaglio in certe aree critiche, ma rende l'immagine troppo scura. La versione arancione fa l'opposto. Nonostante un'opacità ridotta sarebbe stata senz'altro sufficiente, ho deciso di utilizzare una delicata maschera di rifinitura. Questo è il risultato finale, che possiamo confrontare con la versione non filtrata. Ha un aspetto più notturno come dovrebbe essere, ma anche molto luminoso e dettagliato dove necessario. Questa è naturalmente solo una delle infinite versioni che potremmo produrre, quindi, se avete un'idea diversa, è molto facile cambiare il carattere dell'immagine, perché nulla in questo processo è distruttivo. Questo è il motivo per il quale affermiamo che Triple Tone stimola la vostra creatività, fornisce tre versioni diverse e molto interessanti, spesso inaspettate, pronte per essere fuse l'una nell'altra, naturalmente, secondo il vostro gusto e la vostra visione.